YOLANDA SWEETS Anche se ne sono tantissime ed è stata una battaglia veramente ardua del 2017 Andrò a fare anche un pochino di pressing e andrò a farvi ovviamente un pochino l'ASMR di tutti questi slime E vi spiegherò il perché mi piacciono questi slime Allora, iniziamo dal decimo posto Io il decimo posto lo vado a mettere però mi piace questo slime anche se ero combattuto tra questi due Allora, tra questo e questo Allora, questo qua lo vado a mettere perché l'ho fatto un bel po' di tempo fa e mi piace il fatto che sia Che sia e che sembri proprio una ciliegia Ed è rimasto praticamente elastico, vedete, questo slime per tutto questo tempo Sembra un po' gommoso e un po' elastico Poi il fatto che ci sono le palline dentro e il fatto che è quasi trasparente mi piace veramente tantissimo Cioè non so voi, ma vedete questo slime quanto si allunga? Io l'adoro, purtroppo il problema Che lo metto all'ultimo posto è che se è un cincinino indurito E che ci sono comunque degli slime che mi piacciono di più rispetto a questo Ovviamente poi voi decretate la vostra classifica e fatemi sapere qual è lo slime preferito tra quelli che vi mostro Allora, adesso mi risulta un pochino difficile Però al nono posto Oddio è difficilissimo Facciamo che al nono posto ci vado a mettere questo Allora, ci vado a mettere questo perché è un pochino più anonimo come slime Però mi piace perché è lo slime neve più bello che io abbia mai fatto Perché sembra proprio lo slime, quello là di Instagram Cioè non so se capite la situation Guardate, cioè quando cola Sembra proprio quelli slime che vedete su Instagram Un pochino anonimo perché un po' il colore che lascia a desiderare L'ho fatto questo verde tipo acido, non so Perché anche se a voi sembra verde chiaro Ma fidatevi che non lo è, a me è verde acido Però mi piace il fatto che somiglia tantissimo a quegli slime che si vedono su Instagram All'ottavo posto ci vado a mettere questo slime Che lo metto all'ottavo posto ma mi piace comunque tantissimo È il banana, non mi ricordo cosa Che l'ho fatto vedere in un video ASMR E mi piace il fatto che è giallo E poi l'ho fatto con la colla trasparente e la colla vinilica E sotto, adesso vi mostro Cioè guardate qua Sembra proprio un budino È lucidissimo, cioè non so se lo notate E poi è morbidissimo, guardate Cioè non lo vado a mettere all'ottavo posto perché non mi piace Ma perché non ci sono degli slime che mi piacciono di più Comunque ragazzi è lo slime più bello crunchy che io abbia mai fatto Voglio provare con questo slime a fare il pressing Vediamo, vediamo se ci riesco E poi ragazzi mamma mia cioè quanto posso adorare questo pressing allora adesso al settimo posto ci vado a mettere un altro slime che è questo qua che però mi piace comunque tanto e l'avete visto nella smr ed è il chocolate cos'era? l'izy chocolate mousse che era questo ragazzi ve lo giuro è di una consistenza veramente meravigliosa fantastica non ho mai fatto uno slime di una consistenza del genere adesso se dovessi andare a riprodurre sto slime non saprei neanche come fare odora e profuma di cioccolato sembra proprio una cioccolata è elastico ma allo stesso tempo spumoso cioè non so se mi sembra mi sembra una mousse come quando si spreme con la sac à poche adesso passiamo al sesto posto è molto difficile però il sesto posto lo do a questo slime che adesso non mi ricordo neanche mi pare qualcosa cake adesso mi sono scordata pure nome però è questo qua che ragazzi io gli sto dando i posti ma vi posso assicurare che per me è difficilissimo allora questo slime è veramente bellissimo perché allora vedete a parte che è lucidissimo non mi ricordo neanche come l'ho fatto diamo proprio buona è lucido allo stesso tempo non si appiccica come potete vedere ma è tipo un butter crunchy è morbido non è fluffy perché non ho messo la crema non ho messo niente ma ci ho messo mi ricordo quello si ci ho messo la clay all'interno forse l'unica pecca di questo slime è che non è molto diciamo ASMR roso nel senso che non fa molte bollicine cioè non si sente molto l'ASMR da andare a schiacciare al quinto posto vado a mettere questo tutto in giallo un altro po' ed è l'egnog slime ragazzi questo slime per me è una cosa mer... ho loco ho loco è una cosa meravigliosa guardate la lucidità e la lucentezza di questo slime ragazzi io guardate adoro cioè veramente raga elastico crunchy profuma appunto di non lo so di natale è buonissimo allora non lo so non lo so è al quarto posto troviamo questo è bellissimo mi piace questo slime perché ha una consistenza meravigliosa cioè no raga allora ditemi voi se non ha una consistenza fantastica come clear slime è veramente veramente bellissimo poi è morbidissimo vedete guardate qua no veramente raga il posto sul podio se l'è meritato tantissimo al quarto posto però ci sono degli slime che mi piacciono di più allora al terzo posto adesso podio vado a mettere questo che che cos'è questo posto? che si è combattuto con questo che focus questo è il fairy dust invece questo qua è il mini quello là slime guardate poi ci sono le faccette di topolino o di mini all'interno con le stelline ragazzi ha una consistenza bellissima perché è morbido ma allo stesso tempo denso ma allo stesso tempo è elastico cioè non so spiegarvi ragazzi è veramente bellissimo lo so c'è comunque tra il terzo e il secondo questo perché mi piace veramente tantissimo e mi piace al pari se non forse di più questo qua che a molti di voi anche è piaciuto che si chiama oddio focus della macchina fotografica che mi abbandona grazie focus ed è questo qua che si chiama silent night guardate mi metto proprio all'interno dello slime guardate quanto è lucido sopra ragazzi c'è non su voi guardate qua è al pari di questo qua comunque ragazzi è stato difficile è bellissimo veramente veramente bello 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 cioè io questi due slime li ho adorati dal momento in cui li ho fatti guardate qua si vedono i glitter ma allo stesso tempo le stelline ma allo stesso tempo è lucido ed è trasparente io ho combattuto tantissimo e non sapevo quale mettere per primo comunque questo adoro veramente allora non ci incischio e vi faccio vedere quindi la prima posizione per me lo slime bellissimo ed è uno slime medio grande quasi cioè medio gigante quasi insomma tutti gli slime giganti si ce li ho per oramai vi faccio vedere questo qua ed è questo ed è se non mi sbaglio non mi ricordo mi pare cereal milk strawberry che l'avete visto in un video ASMR guardate e sentite voi mi dovete dire come non potevo non mettere questo slime al primo posto come non potevo lo slime è lucidissimo super crunchy e ve lo sapete che io amo gli slime crunchy perché ogni volta le palline risalgono su e sembra proprio latte cereali perché queste palline sono bellissime ce l'ho da un botto 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 di tempo e non si è mai indurito vedete raga è bellissimo perché profuma pure di fragola è stato veramente super iper difficile però alla fine ce l'ho fatta comunque allora con questo è tutto questi erano i miei slime preferiti i miei 10 slime preferiti fatemi sapere in un commento qual è stato il vostro o quale sarebbe stata la vostra classifica dall'1 al 10 spero che questo video vi abbia intrattenuto che vi sia piaciuto in descrizione trovate il link di facebook instagram lo shop delle magliette e il link del mio libro vi mando un bacio un abbraccio vi voglio tanto bene e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14 e 30 con un nuovissimo video bye bye